Andrea Chittaro, presidente AIPSA, che cosa insegna protocollo AS di Umberto Saccone? Insegna innanzitutto che l'infortunio o il problema, anche il più grave, può essere sempre dietro all'angolo e quindi bisogna essere preparati ad affrontarlo perché le conseguenze, non solo per le aziende, ma anche le conseguenze emotive, personali, familiari, possono essere davvero importanti da affrontare e da gestire. E da uomo d'azienda e presidente di AIPSA, quindi, qual è il messaggio che lei si sente di dare al security management? Essere preparati, individuare protocolli di protezione per le nostre persone che viaggiano all'estero, che operano in teatri complessi, perché spesso in questi teatri ci sono rilevanti opportunità di business. Ecco, alle nostre aziende non dobbiamo dire no, non si va perché è pericoloso, dobbiamo andare, ci possiamo andare a determinate condizioni, al patto che siamo pronti ad affrontare i rischi a cui andremo incontro. Questo libro è stato già definito un manuale, possiamo prenderlo come regola? Come tutte le opere di Umberto Saccone diventano manuali e riferimenti per i security manager. Possiamo prenderlo sicuramente come esempio e spunto per molti di noi, per le attività che siamo chiamati a fare tutti i giorni. Andrea Chittaro, presidente AIPSA, che cosa insegna protocollo AS di Umberto Saccone? Insegna innanzitutto che l'infortunio o il problema, anche il più grave, può essere sempre dietro all'angolo e quindi bisogna essere preparati ad affrontarlo perché le conseguenze, non solo per le aziende, ma anche le conseguenze emotive, personali, familiari, possono essere davvero importanti da affrontare e da gestire. E da uomo d'azienda e presidente di AIPSA, quindi, qual è il messaggio che lei si sente di dare al security management? Essere preparati, individuare protocolli di protezione per le nostre persone che viaggiano all'estero, che operano in teatri complessi, perché spesso in questi teatri ci sono rilevanti opportunità di business. Ecco, alle nostre aziende non dobbiamo dire no, non si va perché è pericoloso, dobbiamo andare, ci possiamo andare a determinate condizioni, al patto che siamo pronti ad affrontare i rischi a cui andremo incontro. Questo libro è stato già definito un manuale, possiamo prenderlo come regola? Come tutte le opere di Umberto Saccone diventano manuali e riferimenti per i security manager. Possiamo prenderlo sicuramente come esempio e spunto per molti di noi, per le attività che siamo chiamati a fare tutti i giorni.